Dai, dai, sveglia! Sveglia che c'è il Montefaudo che ci aspetta! Sveglia! Dai, dai, dai! Cerco due tipi in gamba! Siete disposti a soffrire? Sì, signore! Siamo andati in bici, no? Sa di tappa! Sa di tappa! Dai che ti devi cambiare! Dai che sei già cambiato! Facciamo la foto adesso perché siamo ancora tutti vivi! Certo, saluta tutti! Fagli credere che è tua! Ciao! Sono cinque anni che faccio il scinautico in palestra! Aiuto! Aiuto! Mi serve un'altra gamba! Ma tu sei al massimo! Gli assistito? Non lo so, non lo so! Sono al massimo del fiatone! Cuore, non lasciarmi proprio ora!